Sono stati i carabinieri di Padova a portare alla luce un furto continuo e costante che avveniva ai danni degli anziani ospitati nell'istituto Breda, succursale del Configliacchi. Indagati a vario titolo, 20 dipendenti. L'inchiesta era partita tre mesi fa a seguito della denuncia da parte di un dipendente. A sparire erano soprattutto i cibi più pregiati, pesce, pollo, affettati, formaggi e le merendine, mentre la pasta veniva lasciata quasi sempre lì. Svizzera Marciane News, Padova.